Buongiorno, cercherò di tenere l'attenzione dopo pranzo, posso sempre capire che è difficile come talk. Il titolo della presentazione è Can you trust your artificial intelligence? Brevemente mi introduco, come ho già detto lavoro in Red Hat precisamente nell'area di business automation che copre in realtà vari progetti, copre rules che è un sistema di rule engine, quindi automazione basata su regole, gbpm, automazione basata su processi, quindi pratiche, automazione di relazioni umane, opta planner o constraint solver, ottimizzazione di pianificazione, quindi ad esempio ho dei corrieri, devo trovare il percorso migliore per fare le consegne, per ottimizzare i costi, i tempi, cose di questo tipo. Adesso stiamo partendo con una nuova iniziativa Cogito che riguarda rivedere tutte queste tecnologie che sono nate comunque un po' di anni fa nell'ottica del cloud native, quindi fare il più possibile adatte a un sistema cloud che scalino velocemente, che siano facili da utilizzare, facili anche da sviluppare. Precedentemente ho lavorato in Unicredit, sempre con tematiche legate alla big data, ero il team leader del team che faceva sviluppo big data. L'agenda di oggi, partiamo da un'introduzione veramente di alto livello dell'intelligenza artificiale, dopodiché parleremo delle due categorie principali in cui si dividono gli algoritmi di intelligenza artificiale, simbolica e subsimbolica, introdurremo cos'è il concetto di Right to Explanation e arriveremo alla finale al concetto di Trust AI che un po' riprende il titolo, cioè quali sono le cose che un'intelligenza artificiale mi dovrebbe dare per migliorare o per facilitarne la fiducia che posso avere nei loro confronti. Perché? Per dire, se io vado a un medico, ho fiducia nel medico perché se mi dà una diagnosi gli posso chiedere perché, mi spiega, mi dice, ok, ho trovato questo in un esame, se fai questa operazione questa è la probabilità che possa andare bene o male, mi può dare delle informazioni aggiuntive che mi aiutano nel capire, ok, mi fido e andiamo avanti con l'operazione. Introduzione, l'intelligenza artificiale, se la prendiamo come concetto vasto, è l'intelligenza dimostrata dalle macchine in confronto all'intelligenza dimostrata dagli umani, quindi se guardiamo una classificazione estesa, l'intelligenza artificiale riguarda praticamente qualunque tipo di intelligenza dimostrata. Spesso adesso ci si focalizza sulla parte di machine learning, quindi quello diciamo statistico, con poi un focus ancora maggiore sulla parte di deep learning che è la parte di reti neurali. I due approcci principali di intelligenza artificiale, anche nel punto di vista storico, sono stati quelli simbolici basati su regole e quelli invece non simbolici basati sulla statistica. Partiamo da quelli simbolici e vediamo quali sono alcune caratteristiche che hanno e che sono anche interessanti. Prologue, 1972, quindi sicuramente non è una tecnologia particolarmente moderna, però ci permetteva già di fare dei ragionamenti perché potevo definire delle regole, quindi definivo dei concetti, il concetto di fratello, definivo il concetto di genitore, definivo dei fatti, quindi delle cose che io so. Io so che Tom e Sally sono in relazione padre-figlia. A quel punto io potevo coerare, cioè chiedere a questo sistema, mi sai dire se Sally e Erika sono fratelli? E il sistema riusciva, applicando le regole e applicando i fatti, a darmi una risposta. Druls, che è uno dei sistemi che andiamo a sviluppare, ti permette di fare una cosa di questo tipo perché ti permette di definire una regola, una testa della regola che mi dice ok, se il mese è luglio, a quel punto io scopro e metti quindi una nuova relazione che è un mese di festa, di feria. A quel punto ho dei fatti, quindi ho due mesi, ho luglio e maggio, posso fare delle query per andare a dirgli ok, trovami tutti i mesi che hanno avuto una notifica, scusa, anzi, dimmi se questo mese è di vacanza o meno. Una delle prime caratteristiche interessanti dell'intelligenza artificiale simbolica è il fatto che, tornando al fatto della fiducia, cioè del capire come sta ragionando, cioè perché mi dici che è sì, posso banalmente dirgli trace e lui mi esprime tutti i passaggi logici che lui ha fatto per dirmi che è di sì. Quindi ha applicato la relazione fratello e ha iniziato a esplorare, cioè ha iniziato a cercare questo famoso Z, ha iniziato a cercare, vediamo se troviamo fra i fatti, cioè fra le verità che io già conosco un parent, un parent qualunque che sia padre o madre, lo trova Tom, a quel punto prova a vedere se Tom risulta padre anche di Erika, visto che entrambe queste informazioni sono vere, dice di sì e riesce a chiudere quindi tutto il passaggio logico e quindi mi riesce a dare un'explainability, cioè una dimostrazione completa del passaggio di ragionamento che ha fatto. Questo ovviamente ti dà un'ottima comprensione, anche a parte la sintassi, anche una persona non tecnica se ti spiego, ok, io ho fatto questo passaggio, quest'altro passaggio induttivo e alla fine sono arrivato a questo significato, dovrebbe riuscire a capirlo. In più è anche molto facile aggiungere conoscenza. Cosa vuole dire? Io sono in una situazione in cui ho queste proprietà e questi fatti, quindi queste sono delle verità che so e queste sono delle regole che posso applicare, ne scopro di nuove oppure voglio imporre delle nuove proprietà, basta che le definisco, non devo fare un training particolare, dico ok, ho scoperto che c'è questa nuova relazione e ho scoperto anche che ho un nuovo concetto, quello di nonno, in cui qualunque, basta trovare un qualsiasi genitore, prendo il padre di quel qualsiasi genitore, quello è il mio nonno, perfetto. Senza grossi problemi posso aggiungere una condizione, posso iniziare a querare considerando quella condizione. Ovviamente questo mi permette, funziona molto bene per certi casi, funziona meno bene in altri casi o comunque certi problemi non li riesci a risolvere, quindi se è un problema di riconoscimento di immagine, di riconoscimento del testo, di parlato, o anche un anomaly detection, quindi io vorrei che il mio sistema imparasse qual è l'andamento previsto di un determinato fenomeno e se poi nel monitor all'ora in tempo reale si accorge che c'è un qualcosa che esce dalla scala, mi segnalare l'anomalia. Magari non mi sai dire il perché c'è l'anomalia, ma perlomeno mi sai dire, guarda, rispetto a qual era il comportamento delle ultime settimane, adesso sta succedendo qualcosa che non avevo visto. Per tutti questi tipi di use case, l'intelligenza artificiale subsimbolica, quindi legata alla parte statistica, è molto più potente, perché ha un asset molto più ampio di algoritmi, hai una parte di neural network con cui posso fare riconoscimento di immagine, linear regression, clustering, ma ce ne sono tanti altri. Tutti questi sistemi permettono di risolvere dei problemi di questo tipo in maniera induttiva, cioè dal dato riuscire a estrarre quali sono le relazioni che avevo bisogno per riuscire a rappresentare il fenomeno. Quindi torniamo a questo bellissimo esempio di gatti, abbiamo queste foto di gatti, se io ti dovessi dare delle regole che ho usato io cognitivamente per dire, queste sono gatti, ok, sapresti definirle? Magari inizierei a dire, ok, la forma delle orecchie mi fa pensare che è un gatto, è difficile formalizzare il nostro pensiero, noi riconosciamo anche per esempi del fatto che questo è un gatto, perfetto, io voglio poter dare tutte queste informazioni alla mia rete neurale, la rete neurale automaticamente deve cercare di riuscire a capire le similitudini e quindi esprimere il concetto di similitudine di questo è un gatto per poterlo poi riconoscere. Nei recommender, classici, quelli che hanno Amazon, Netflix, qualunque sistema che mi va a proporre qualche nuovo prodotto, qualche nuovo film da vedere, si basano su concetti simili, cioè io ho il dato storico tuo e di altre persone, riconosco da solo un'idea di similitudine, quindi riesco a riconoscere che, ok, queste persone sono simili per il concetto di similitudine che io ho preso dal dato, quindi se io vedo che questa persona ha due prodotti ma non ha il terzo che i suoi simili hanno, posso propoglierlo perché realisticamente se il concetto di similitudine è corretto, cioè è veramente quello, sono riuscito a evidenziare un concetto di similitudine che poi si rappresenta anche nella realtà, probabilmente è interessato. Un'altra caratteristica molto interessante è che è molto più robusto a un dato sporco, se noi abbiamo questo potrebbe essere un sensore che rileva delle temperature nel tempo e magari appunto ci sono delle oscillazioni, io vorrei sapere qual è l'andamento di questa temperatura, non mi interessa il vero dato puntuale, cioè sapere che questo dato con quello successivo sta andando verso il basso, potrebbe portarmi a una previsione errata del fatto che la temperatura sta scendendo, quando invece un modello, magari questa è una linea in regression banale, mi riesce a trovare qual è l'andamento invece del fenomeno. Una cosa simile anche nelle random forest, se noi parliamo di alberi decisionali, sono concetti molto facili, cioè io ho un insieme di caratteristiche, apprende in base a delle soglie, in base a delle informazioni, non lo so, se il tributo età è maggiore di 18, allora prendi questo ramo della decisione, se no vai da un'altra parte, questa cosa è molto fragile, perché se mi arriva un dato sbagliato e per sbaglio uno ha dichiarato che ha 19 anni invece che 18, arriverà una previsione sicuramente sbagliata anche solo per un dato sbagliato. La random forest invece ha un meccanismo di voting, quindi a destra una serie di alberi decisionali che ognuno di questi lavora su un sottoinsieme del dato, quindi nessuno vede il dato completo, tu vedi tre caratteristiche, tu hai altre tre, ci sono delle sovrapposizioni, a quel punto quando io poi li eseguo posso fare un meccanismo di voto e quindi idealmente, a meno che il dato è fortemente correlato, vuole dire che c'è una sola caratteristica che in realtà mi mappa l'output e a quel punto probabilmente in realtà nemmeno questo sistema mi dà una, vuol dire che in realtà la risposta è già nel dato, cioè che se sapevo l'età, l'età è l'unica cosa che mi interessava sapere per avere il risultato e a quel punto se l'età è sbagliata ho già finito, altrimenti è molto probabile che sia robusto, che riesca a darmi l'informazione, riesca comunque a darmi un risultato coerente. Bello, lo portiamo in produzione e poi scopriamo che Google, non più tardi di fino a quattro anni fa in realtà, se gli davi delle foto di afroamericani capitava che le classificavano come gorilla e questo ha generato ovviamente un po' di imbarazze anche in Google, dopo due anni ancora non aveva risolto e alla fine la fix di questo è stata rimuovere l'etichetta gorilla fra quelle che cercava, quindi adesso non ti dice più che è un gorilla non perché è riuscito veramente a distinguerli, ma perché non conosce più cosa sono i gorilla. Ovviamente non era probabilmente quello che si aspettavano quando l'ho portato in produzione, questo esempio in realtà l'ha già fatto prima di pranzo Lorenzo, Amazon, sono 600.000 dipendenti, fanno interviste, non lo so, centinaia di interviste al giorno, quindi se loro riuscissero a automatizzare il processo di selezione sarebbero molto più contenti, uno per motivi di costi e due anche per motivi di uniformità, perché l'algoritmo può avere degli errori ma ha il vantaggio che in qualunque momento mi restituisce a parità di input gli stessi output. Ci hanno provato e peccato che per un problema del dato, cioè che le persone avevano un bias, quindi avevano un pregiudizio nei confronti delle donne e l'algoritmo ha imparato dal dato. Ogni tanto abbiamo, qui vabbè è un po' più filosofico, però abbiamo l'ambizione che l'intelligenza artificiale che apprende dall'uomo si debba comportare meglio dell'uomo. Ci si può arrivare, ma bisogna andare in realtà a contrastare il bias del dato, andare un po' in qualche modo a ripulire il dato, ma con il rischio in cui se il dato è fortemente basato su pregiudizi, che se tolgo la parte pregiudiziale del dato non mi rimane più dato. E quindi ha generato questi altri problemi. Per fortuna siamo in Europa e quindi in questo caso la tematica normativa legata all'intelligenza artificiale è un tema un po' più forte perché è comunque legata alla privasi del dato, quindi è sempre legata perlomeno alla normativa della GDPR, che è la normativa europea che gestisce la privasi e l'utilizzo dei dati comuni. Dico per fortuna perché invece in Nord America questa cosa è ancora vista quasi come un limite all'impresa, il fatto che alcune cose non le posso fare ovviamente mi dà dei limiti, però sono abbastanza favorevole più all'approccio europeo del dire ok, i dati, io te li ho dati, magari con consenso, ma quello che ci fai magari deve essere comunque normato. Quindi ha iniziato a introdurre dei concetti legalesi, quindi non particolari, non è che è andato a dirmi la rete neurale sì o la decision tree no o cose di questo tipo. Ha affermato però che se tu vuoi fare, automatizzare delle logiche, l'utente deve avere delle meaningful information, cioè avere delle informazioni significative che gli permettano di capire del perché, cioè non mi basta dire sai che c'è, hai lo score troppo basso, ok ma spiegami perché, spiegami che cosa viene fuori. Oppure anche che ha diritto a avere una spiegazione o avere la possibilità probabilmente di reclamare. Quindi io voglio poter dire ok è stata automatizzata, voglio contestarla e a quel punto io che ho erogato il servizio e l'utente devono riuscire a capire del perché è arrivato a questa situazione perché appunto magari c'era un problema nel modello. Tutte queste tematiche stanno portando a un tema un po' più ampio, cioè del fatto che soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale applicata dell'enterprise, quindi aziende grosse, che erogano servizi all'utenza devono considerare non solo la qualità del modello ma anche che cosa riescono a capire dal modello e avere sufficienti informazioni per riuscire poi a rispondere in caso di contestazione o anche banalmente in fase di compliance. Quindi il trust AI, explainable AI viene chiamato in vari modi, è un po' un gioco a quattro mani in cui hai il data scientist che deve essere sicuro, deve avere gli strumenti necessari che quando crea il modello non abbia un biased o ragionevole certezza. Il software engineer che poi porta in produzione il modello e che le composizioni poi vengono fatte in maniera corretta, il case è l'operatore deve a sua volta avere tutte queste informazioni in modo che se mentre eroga la pratica ha sufficienti informazioni, magari riesce a dire ok, questa la mando avanti in automatico perché le informazioni sono tranquille, non ho percezione che ci siano problemi e altri casi magari la blocco, mentre il compliance worker è quello che deve avere tutte le informazioni di tracciamento per poter dire ok, se voglio fare un audit, voglio prendere una decisione automatizzata e dire ok, spiegami come l'hai fatta, anche se magari non l'ha fatta l'utente esterno, è un problema mio interno, devo riuscire a garantirmi di avere tutte le informazioni in modo che semmai mi faccia causa, perché quando le cose vanno male possono andare molto male, io ho tutte le informazioni che mi servono per fornirgliele e per difendermi. Anche la DARPA che è uno degli enti americani di ricerca legato alla difesa, sta affrontando la tematica, loro l'hanno declinata con il nome di Explainable AI e già mi pare un paio di anni fa hanno iniziato a citare il fatto che ad oggi abbiamo dei sistemi che per alcune cose sono opachi, io li addestro, arrivo a un modello, in questo caso una rete norale che viene usata spesso come esempio perché è una delle più criptiche da capire, che mi dà una predizione e mi dice sai che c'è questa immagine al 93% è un gatto, io che sono l'operatore che riceve questo input dovrei a mia volta guardare l'immagine per avere un'opinione anche io perché dal sistema ho un'informazione copaca, non riesco veramente a capire che cosa sta succedendo. Il tumore, quello che vorrebbero arrivare è di avere dei modelli che siano comprensibili in modo che l'informazione finale sia, sono sicuro che è un gatto o comunque sono ragionalmente sicuro che è un gatto, ma ti dico perché, perché ha il pelo, perché ha i baffi, perché ha determinate, la forma delle orecchie, perché ha determinate caratteristiche. Probabilmente poi considerando che l'ente di difesa non vogliono veramente, non sono interessati diciamo a automatizzare il riconoscimento del gatto, diciamo gli use case che penseranno saranno un po' meno nobili, però comunque il problema c'è. Quindi uno dei problemi è dell'interpretabilità, se parliamo di interpretabilità possiamo partire da un esempio, un dataset che è disponibile in letteratura che riguarda il Titanic, il Titanic è l'affondamento delle persone che sono morte, visto che è un problema chiuso nel senso che abbiamo le lingue di tutte le persone, estrazione sociale, classe, tutte le informazioni, possiamo provare a creare un modello che mi cerca di dire, dato il passeggero, che probabilità aveva di sopravvivere o meno. Quindi io posso mettermi una domanda, sono un bambino in realtà maschio di 4 anni, che è in prima classe, che ha batto 42, penso dollari, non ricordo, di biglietto, la mia predizione, il mio modello mi dice 42% di sopravvivenza. Bello, brutto, ma riesco ad avere qualche informazione in più, ad esempio quali sono le informazioni che mi hanno portato a quella previsione. Esistono dei sistemi, in questo caso è un esempio preso da Ibergdown, che mi permette di esplodere la random forest e far vedere quali sono le caratteristiche che hanno contribuito positivamente alla predizione e quali negativamente. E quindi si vede che quelle due che hanno contribuito di più ad aumentare la probabilità sono state la classe, quindi prima classe, seconda classe, terza classe in cui sarebbe salito, l'età, e invece ha contribuito negativamente il genere. Quindi se la leggiamo al contrario, in qualche modo sembrerebbe che prima donna e bambini dei prima classe. Magari il prima classe non è particolarmente nobile, ma è quello che il dato ci dice. Quindi in questo caso riesco ad avere un'informazione che non è completamente opaca, io riesco a dire ok, facciamo che io sono il data scientist che ha creato questo modello, prima di portarlo in produzione vorrei verificare se c'è un bias, quindi vorrei vedere magari se è discriminatorio. Se vedo in un caso come questo posso vedere ok, guarda che in realtà in questo caso è stato, visto che è un modello basato su un fenomeno già esistito, in realtà il fatto che quelli che principalmente sono salvati sono di prima classe è un fatto storico, quindi il bias c'era ma c'è stato nell'uomo, cioè hanno salvato le persone di prima classe. E quindi riesco ad avere maggiori informazioni. Ci sono altre tecniche che cercano di lavorare anche ad esempio sulle reti anorali, quelle due più in voga sono Lime e Shop. Lime ad esempio lavora, sono tutti approcci diciamo che sono di spiegazione dei modelli che sono teoricamente trasversari ai modelli, cioè ti riescono a spiegare sia modelli, praticamente tutti i modelli di intelligenza artificiale disponibili. Ad esempio Lime cosa ti permette di fare per quanto riguarda la rete anorale che è una delle più opache? Beh, non riesce in realtà a darmi informazioni veramente significative ma un'informazione me la riesce a dare e quindi io gli ho fatto classificare questa immagine. Questa immagine contiene un cane, infatti lui ha riconosciuto con l'82% di probabilità che è un bernese di montagna. Perfetto, io gli dico ok, spiegami il perché. Guardando questa predizione riesce a evidenziare con in verde l'area dell'immagine che ha usato, che ha contribuito positivamente alla predizione e in rosso quella negativa. E se vedete effettivamente lui l'area che ha usato per riconoscere il cane è la testa del cane come era prevedibile, mentre l'area in rosso è il gatto perché in questa foto c'è anche un gatto e quindi è come se l'immagine fosse meno puramente un cane ovviamente perché se arrivassimo alla situazione in cui io ho un cane grande come il gatto, lui potenzialmente ovviamente se deve classificarla in una sola classe abbassa le percentuali per dire sì, questa foto è cane ma è anche gatto. Shop in questo caso riprende lo stesso esempio di prima, questo qua, però è come se questo è fatto possimo rispetto a una predizione, quindi io ho un input e guardo l'esplosione dei suoi valori. Shop cerca di fare una specie di media di tutte le possibili esplosioni rispetto alle valutazioni, quindi è come se idealmente io facessi tutte le valutazioni con tutti i possibili input e mettendoli a media, aggregandoli, mi mostra quali sono le feature che pesano di più in generale, quindi non sulla singola previsione che è comunque importante, ma in generale. L'ultima parte del puzzle è una parte di compliance, cioè una parte di tracciabilità, quindi abbiamo detto noi abbiamo un normale nostro sistema che fa automazione, che gestisce decisioni e che le fa in maniera automatica, avrà una parte di codice, avrà una parte di regole magari di workflow, avrà una parte di modelli, i modelli, diciamo le regole workflow si autodimostrano, nel senso che il tracciamento è implicito, come abbiamo visto prima con Prolog, i processi è un'esecuzione di step, quindi io ti posso dimostrare sempre in qualunque momento che cosa è successo, quali passi ho fatto. Per i modelli abbiamo trovato delle tecniche che ci possono aiutare, a quel punto mettendo insieme queste, mettendo insieme quali sono i requisiti, cioè qual era la domanda, quindi qual era magari il requisito legale che è stato utilizzato per creare tutto questo sistema, mettendo insieme i dati e anche i controlli che sono stati fatti a livello di testing prima di portarli in produzione, riesco a creare una box che mi permette di avere un completo tracciamento dell'operazione, quindi in qualunque momento se io ho una decisione di cui voglio averne l'evidenza, voglio avere che cosa ci sta dietro a questa decisione, posso trovare che cosa ci sta dietro dal punto di vista di regole, cosa ci sta dietro dal punto di vista di modello e quali caratteristiche hanno influito, riesco a vedere anche qual era il requisito che è stato dato, perché magari appunto semplicemente nel requisito non era stata considerata la tema discriminatorio e quindi il modello è corretto che abbia una discriminazione perché non era stato uno dei requisiti con cui è stato creato, quindi riesco ad avere tutte queste informazioni che mi permettono di avere maggior fiducia in questo caso nel modello, non perché in realtà il modello si comporta meglio o peggio, ma perché ho maggior controllo di quello che sta succedendo ed è più facile per me riuscire in fase di creazione nel prevenire il fatto che il modello stia apprendendo delle cose sbagliate, sbagliate ovviamente dal punto di vista mio di requisito, e anche poi in fase di esecuzione di riuscire ad avere tutte le informazioni che mi servono per darle sia all'utente oppure tenermele semplicemente che in caso di contestazione ti dico ok, il motivo per cui ti è stato rifiutato il mutuo è che ti posso dare tutte le caratteristiche, ti posso dare cosa hanno influito, non è detto che poi ovviamente la persona sia comunque contenta di dire che bello mi hanno rifiutato il mutuo, però comunque ha informazioni in più sulla motivazione. Bene, con questo ho finito, non so come sono i tempi, nessuno ha controllato i tempi, grazie. Grazie. Grazie.